Qui è stato evocato un concetto come alienazione, quindi un tema immenso, che poi è un po' il tema di stasera. Intanto dobbiamo ricordare, e credo sia utile, che questo concetto ha occupato la riflessione filosofica e politica europea perlomeno per 150 anni, almeno a partire da Hegel. Oggi non se ne parla più, non si parla di alienazione. L'altro giorno all'aria che tira ho detto alienazione, e ho detto che nessuno parla più di alienazione, e mi guardavano come dire, e ho detto che forse siamo così alienati che non si parla più di alienazione, perché per parlare di alienazione vuol dire che hai comunque una memoria di non alienazione. Allora noi siamo talmente alienati che non parliamo più di alienazione, siamo talmente dentro Matrix che nessuno più pensa che se ne possa uscire, o che se ne debba uscire. Questo vuol dire, rendercene conto, vuol dire avviare un processo rivoluzionario molto serio, culturale, prima di tutto, culturale. Un sociologo, psicologo come Paul Hawking già qualche anno fa diceva la nostra mente è indirizzata, o sarebbe meglio dire forgiata, dai media al servizio delle corporation che li sponsorizzano. Questo ragazzi, dobbiamo dirlo, i media non sono una cosa tra le altre, noi li trattiamo come se fossero, non so, una cosetta tra le altre. Quella è la cultura popolare in cui siamo immessi, è l'ambiente, come si dice, è l'ambiente in cui viviamo. È vero che grazie a Dio c'è la rete, grazie a Dio perché se no non staremo qua. Se non ci fosse stata la rete internet, sicuramente Roberto Fico non sarebbe qui a fare il presidente della Camera. Se tutto fosse stato gestito dai mass media, diciamo, classici, io non starei qua, di sicuro. Quindi teniamo conto dell'importanza della rete e sviluppiamo nelle potenzialità che sono immense. Però i media sono anche gli altri e sono anch'essi molto forti, molto potenti e determinano ancora moltissimo l'ambiente mentale, quindi spirituale, culturale del popolo. Quando tu bombardi e dai per scontato, anche qui la filosofia che c'è ma non viene esplicitata, io voglio che si ridiscuta l'interruzione pubblicitaria, io voglio che si ridiscuta come fatto culturale. Io non sono d'accordo, non sono d'accordo, che almeno nel servizio pubblico, poi è chiaro che, però anche su quello si potrebbe... Però che la gestione, il linguaggio, io voglio che si faccia un'analisi culturale e critica del linguaggio pubblicitario. Perché è immenso, è continuo, sono ore e ore e ore di bombardamento, ma è possibile che io me devo sentire il GR e prima me devo sentire 4, 5... Cazzate! Ma perché? 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 Chi l'ha detto? Io voglio che si discuta, io voglio che democraticamente queste cose non vengano più date per scontate. Che si ridia a queste cose il valore che hanno, sono cose gravi, che agiscono sulla psiche. Ci sono generazioni di psicologi che studiano come renderci deficienti, sono lì a pagamento, studiano notte e giorno come farti comprare l'ultima cosa inutile che ti vogliono vendere. Questo è innocuo, questo non è tema democratico, questo poi non influenza, no, influenza! Influenza! Poi ci lamentiamo che i giovani sono un po' inerti, ma già negli anni 90, io facevo i programmi alla RAI appunto, negli anni 90 c'era pure il mio amico Andrea, c'erano già gli allarmi degli psichiatri che dicevano guardate che noi stiamo formando la prima generazione che si evolverà sulla base di soli due sensi, la vista e l'udito, e apprenderà il mondo senza alcuna mediazione emotiva. Questo non è mai successo, non sappiamo quali effetti potrà avere. Ora, un effetto mi pare evidente, l'atrofizzazione dell'immaginazione creatrice. Se tu un bambino dai sei mesi in poi lo sottoponi ad un assorbimento mostruoso di immagini forti, potenti, emotive e non mediate, la sua capacità di immaginare in forma creativa si atrofizza, muore. Allora, sono temi di cui vogliamo parlare? Questa è l'alienazione, questo è solo un livello di alienazione. Dobbiamo tornare a parlare di alienazione. E non recuperando, come diceva giustamente Tiziana, filosofie ottocentesche che hanno fatto il loro tempo, ma andando molto oltre, molto oltre quello che Marx poteva concepire come alienazione. Noi oggi abbiamo dei dati, anche attraverso un secolo di psicologia del profondo, la spiritualità molteplice che si sta sviluppando, la sensibilità ecologica ambientale sulla vista, sull'udito. Noi sappiamo che tutto quello che vediamo ce lo mangiamo, è mangiare, le immagini sono mangiare. Che effetto fanno sul corpo? Ci sono ricerche? No. O ci sono e non te le fanno conoscere. Quindi il lavoro è grande, combattere con l'alienazione vuol dire prima di tutto denunciarla. Prima di tutto bisogna dire questo è alienante, poi lo si incomincia a correggere, ma se non viene più detto che qualcosa è alienante, e hanno vinto, hanno stravinto, viene dato per scontato, per ovvio, per naturale, ciò che è innaturale e violento. E questo va denunciato. Sarà una lunga lotta, bella, piacevole e non violenta. E voglio concludere proprio con un grande pensatore rivoluzionario non violento del XX secolo, che è Martin Luther King, che io amo particolarmente, perché quando a 13 anni feci la mia prima tesina in terza media, la feci sul Ladder King, che era morto da poco. E lui in un momento altrettanto forte, con un bisogno altrettanto forte di cambiamento, dice parole che però valgono ancora per noi. Lui dice, noi come nazione dobbiamo sottoporci ad una rivoluzione radicale nel campo dei valori. Dobbiamo iniziare subito a passare da una società orientata alle cose verso una società orientata alle persone. Questa è la rivoluzione. Quando le macchine e i computer, le ragioni del profitto e i diritti di proprietà sono considerati più importanti delle persone, è impossibile sconfiggere la gigantesca triade formata dal razzismo, dal materialismo estremo e dal militarismo. Quindi una rotta ce l'abbiamo, dobbiamo organizzare questo processo e godercelo, perché è molto divertente. La rivoluzione, quella vera, quella non violenta, quella che abbiamo davanti, è la cosa più divertente e direi più erotica del mondo. e direi più erotica del mondo. Grazie. Applausi. 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 Applausi.